La scoperta dell'alfabeto Il critico Paolo Mauri nella prefazione di Le parole abbandonate. Questo è il tentativo di ricomporre l'immagine di una cultura contadina in disgregazione utilizzando un certo numero di parole dialettali alle quali corrispondono o corrispondevano altrettanti oggetti, strumenti, funzioni. Malerba narra le storie dei contadini che ha conosciuto da ragazzo, aggiunge Mauri, negli anni a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, nelle campagne intorno a Berceto, Parma, dove la sua famiglia aveva terre e case. Questo repertorio di parole sopravvissute è soltanto un testo di esperienza con tutti i limiti e le parzialità della testimonianza diretta intorno a una cultura che non ha più memoria di se stessa e tantomeno è in grado di produrre immagini del proprio futuro. Luigi Malerba, scrittore, sceneggiatore, direttore di riviste, è considerato uno dei maggiori scrittori italiani del dopoguerra. In questa raccolta restituisce la voce ai contadini che popolavano la campagna isolata e diffidente persino nei confronti della lingua italiana che identificava i forestieri e le autorità costituite. Sapienza popolare, fatica e gioia si alternano e danno spessore a voci che sono spesso dei veri e propri micro racconti. Gli uomini passano, ma la terra rimane immobile, come la terra. Gli uomini passano, ma la terra rimane immobile, come la terra rimane immobile, come la terra rimane immobile, come la terra rimane immobile. Gli uomini passano, ma la terra rimane immobile